Come è cominciato il campionato? Il campionato è cambiato anche l'allenatore, una svolta dopo 6-7 partite di campionato che arriva a causa di queste due sconfitte. Sì, questo ci dispiace perché prima di aver perso siamo noi, quando cambiamo allenatore ti senti un po' responsabile perché magari hai dato il massimo ma forse non è bastato. E questo ci dispiace e ringrazio il mister a nome di tutti per i due mesi che abbiamo lavorato insieme e per quello che ci ha dato. Poi il calcio d'altronde è fatto anche di queste cose qua, è cambiato, è arrivato un nuovo allenatore e ci siamo messi subito al servizio del nuovo allenatore sperando, come dicevo prima, di poter rilanciare il Carpi nel migliore dei modi. Il Carpi che ha segnato tanto ma anche ha avuto un po' troppa amnesia in questa prima fase di campionato. Sì, si sostengono degli alti e bassi, sicuramente abbiamo iniziato un campionato bene con le tre vittorie consecutive, poi abbiamo avuto qualche problemino, dettato magari anche da qualche infortunio che è capitato nelle ultime settimane, dettato magari da qualche episodio, però purtroppo quando capitano questi momenti bisogna tirare sulla testa, bisogna stare con la testa alta e proseguire e cercare di dare sempre il massimo per poter venire fuori. Ora abbiamo ricominciato questa settimana con uno scossone, perché essendo stato il cambio allenatore sicuramente c'è stato uno scossone. Speriamo di finire questa settimana come tutti ci auguriamo. Il Carpi vuole lottare per i primi posti, vuole lottare per la promozione, c'è la paura di vedere scappare via il Pisa che è già più sei? No, perché il Carpi io credo che questa squadra sia stata costruita per raggiungere un obiettivo importante. Abbiamo lavorato questi due mesi e continueremo a lavorare. È ovvio che ci sono anche altre formazioni che sono partite per il Pisa, per esempio è una di queste, dove sta facendo bene, dove mi auguro che anche loro e sicuramente arriverà un momento negativo della stagione dove magari si troveranno in difficoltà come ci siamo trovati noi in queste due settimane. A fine settimana, dicevi, speriamo di concluderla bene, arriverà il Ponsacco. Sì, è una squadra sicuramente difficile da affrontare, sicuramente è una squadra dove verrà qui a fare la partita, anche perché, voglio dire, venire a giocare a Carpi, tutte le squadre che vengono a Carpi vengono per cercare di metterci in difficoltà e con il coltello fra i denti. Noi però sappiamo che veniamo anche da una settimana un po' dribolata e credo che questa rabbia che ci ha portato un po' di scombussolamento, cioè lo scombussolamento che ci ha portato questa rabbia che abbiamo dentro, mi auguro di poterla mettere in campo e portare a casa il risultato che tutti speriamo.